Musica Pelamatti Cross di prima All'altezza del primo palo Peschetola Fabian Fabian, Oti Abiuso, tanto in mezzo Peschetola va a cercare il colpo di testo di un compagno Arriva Fabian Unziatini Fabian In fase di possesso Come abbiamo visto poco fa nello schieramento Abiuso che si muove tanto Bello il pallone per Fabian Cecchini Muller Ancora Fabian Si chiude il Verona Gira tutto a sinistra per Carboni Fabian Tre quarti di Grassi Matias con la testa Fabian Prima dell'arrivo di Fabian Si scappano spesso la posizione Cecchini Muller e Fabian Qui allarga bene Il 14 per Zanotti Eccolo cross dalla tre quarti In mezzo per la rovescia Minocci Regala il pallone a Fabian Attaccato da Colistra Resiste di fisico il centrocampista dell'Inter Non molla al 30 Non momentaneamente Fabian Bene con l'esterno per Unziatini C'è un po' regolarmente Unziatini Si lancia Pallone in mezzo Tentato La rimorca Arriva Iliev Pallone che sfila Fabian col sinistro Cecchini Muller In verticale Fabian Cross sul secondo palo Non esce Chivila Fabian Fabian al volo Tocco largo per Carboni Cross Basso a cercare Abiuso Pallone che passa Fabian controlla Tocco corto per Zanotti In mezzo col sinistro Cercare Fabian Controlla col petto Poi col sinistro La mette Moretti Fabian Bene in profondità Peschetola Che chiama il pallone Non trova modo di andare da lui Ora si Fabian Zanotti Fabian Resiste di fisico A Calabrese E gioca in direzione Corazzanotti Confusione in area Prova ancora Abiuso Fabian prima di Flacus Prova ad andare sul fondo Fabian Ne ha tre addosso Palla che passa Peschetola L'Arpiona Fabian In mezzo a due Va via anche grazie al rimpallo Ancora fiato Fabian Che prova la giocata Verticale in profondità Per Peschetola Affrontato da Diab Non senza fatica Quest'oggi contro il Verona Fabian In seguito da Diabì Nuova sfida tra i due Poi Fabian Scivola Cade da solo Ma la terra la gioca Peschetolo tempo Non cambia nulla Andrà a fare la prima punta lui E subito a rincorrere Cecchini Muller Anzi Terzata Fermato Dazzanotti a Casadei Fabian Attaccato da Corfalidis Casadei Satriano Casadei Satriano Giocano in due Tocco dentro Per Casadei Ecco lo sinistro di Peschetola Si stacca Il tentativo Poi la palla Finisce in porta Lascia bene lì a Peschetola Fabian Per l'inserimento Di Zanotti Satriano Lavora bene Il pallone per Fabian Che protegge Dall'arrivo del Pupo Cacciang Peschetola Uno contro quattro Peschetola Terza torna indietro Fabian dal limite Col piazzato La ribalta all'Inter In quattro minuti Il piazzato di Fabian Due a uno Per i Nelazzurri Un務 Control itu Un務 Composer Un務уди Un務 Per i Nelazzurri Util tapa Po Ho Po